fire podcast numero 112 120 giorni in cenacolo continuano la pentecoste si avvicina oggi prendiamo luca 24 49 dove gesù ci dice ed ecco io mando su di voi colui che il padre mi ha promesso ma voi restate in città gerusalemme non siate finché siate rivestiti di potenza in tempi passati la pentecoste era celebrata per ricordare la promessa che dio faceva al suo popolo cioè un messia che ci avrebbe liberato della sofferenza e la colpa per questo è ancora un momento significativo anche per noi è l'occasione ideale per ricordare il progetto d'amore di salvezza di dio per noi e in ogni caso gesù ci ha chiesto di aspettare di rimanere di dimorare abbiamo già visto finché la potenza divina si riveli questa parola potenza può avere più significati potere autorità energia e arrivare nella nostra vita la verità è che viene da dio cioè che praticamente possiamo fare esperienza quando siamo rivestiti di questa potenza di dio possiamo vedere le cose in modo diverso con suo sguardo e le parti buone che lui mette noi possono costruire questo progetto d'amore di pace con la compassione divina che lui mette nel nostro cuore con la sua misericordia ed è lì che le dalle parole si passa all'azione quando ci prepariamo spiritualmente alla pentecoste riconosciamo cosa significa veramente essere rivestiti della potenza di dio impariamo che per usarla significa costruire un rapporto profondo con lui entrare veramente nel suo piano d'amore e incontrarlo nella preghiera nelle negli atti nelle azioni di ogni giorno e in questa maniera siamo liberati dai fraintendimenti tutto quello che sembra ombra non è luce per la luce di dio ecco la potenza del suo spirito le sue parole queste ci aprono alla potenza ed in questa maniera che saremo benedetti fratelli e sorelle perché dio ha promesso di inviarci con lui che abbiamo bisogno di ricevere che ci trasforma e conoscendolo più intensamente più intimamente ci prepara a ricevere veramente una nuova pentecoste e questa nuova pentecoste noi vogliamo viverla in due date per l'italia il 17 giugno a torino il 22 luglio a enna e se sei d'accordo iscriviti anche tu ai nostri eventi che noi chiamiamo fire days sveglia italia puoi iscriverti o vedere le informazioni su emmos-com.center vi aspetto ciao grazie a tutti